Ogni famiglia ha un modo di nascondere ciò che non vuole far vedere. Può farlo con un quadro per coprire una macchia sulla parete, o con la porta dell'armadio per celare il caos al suo interno. O con sorrisi artificiali per mascherare anni di dolori e tormenti. Ci sono famiglie che arrivano a sfiorare il limite pur di nascondere una scomoda verità. Alcune invece superano il limite. Quando la verità è scomoda si cerca di tenerla nascosta, perché si è consapevoli del danno che potrebbe causare. Perciò si scela tra mura resistenti, o si mette dietro porte chiuse, oppure si offusca con mascheramenti astuti. Ma la verità, per quanto scomoda, emerge sempre. E qualcuno a cui vogliamo bene finirà per farsi male. Mentre qualcun altro godrà di quel dolore. Ed è questa la verità più scomoda. La verità più scomoda è la verità più scomoda. La verità più scomoda è la verità più scomoda. La verità più scomoda è la verità più scomoda.